Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto su questo canale. Allora, oggi che sto registrando questo video, fuori piove, quindi non c'è mood migliore di una candela, un maglione caldo e 5 libri perfetti per l'autunno, secondo me. Sono libri quindi che vi consiglio io, non è detto che a voi diano le stesse vibes autunnali, però perché no? Allora, io come al solito non mi ricordo se vi consiglio questi libri per altre stagioni, però potrebbe essere, ma soprattutto perché sono libri che a volte io considero sia per una stagione che per un'altra. In particolare in questo momento mi sta venendo il dubbio per un libro che io vi abbia consigliato per l'inverno, ma per me va bene anche per l'autunno. Partiamo da un libro che vi ho già fatto vedere nello scorso video, o comunque in uno degli scorsi video, che è Abbandono. Abbandono, romanzo familiare incentrato sulle donne, le donne di questa famiglia che vivono tra il pre e il post seconda guerra mondiale, e con tutto quello che ne consegue, soprattutto perché la nonna si sposa, comunque ha dei figli inizialmente, prima di sposarsi con un ebreo. Se voi non doveste saperlo, diciamo che la fede ebraica si passa da madre, quindi se è la madre ad essere ebrea, di fede ebraica, a quel punto passa automaticamente ai figli, altrimenti c'è tutto un processo di conversione, quindi i figli devono fare determinati esami, questo nella modernità, non so se anche in passato fosse così, altrimenti appunto c'è la conversione della madre, che quindi poi passerà questa fede automaticamente ai figli, però appunto è femminile, diciamo, la discendenza. In questo caso noi abbiamo il padre, il nonno di tutti, che è ebreo, questo comunque comporta un sacco di problemi durante la seconda guerra mondiale. Perché non è che si stesse proprio a guardare madre, padre, figlio, cioè tutti, indipendentemente. Romanzo per me è super autunnale, sia per la copertina che per la storia, quindi questa storia di abbandono e solitudine, da parte delle protagoniste femminili, molto molto bello. Io ringrazio tantissimi per Boria per avermelo mandato, arriverà sicuramente una recensione singola su questo libro, in modo da spiegarvi bene con anche i nomi di queste donne. Poi un altro libro, questa volta un po' fuori da quelli che di solito vi consiglio, perché è un libro di poesie, ma secondo me perfetto sia per l'autunno che per l'inverno. Anche questo libro mi era stato inviato da una casa editrice, che in questo caso è Voland, ed è Ultimi versi di Marina Tsvetaeva. Questo libro per me è questa stagione barra inverno, perché sono poesie profondamente tristi. Marina Tsvetaeva è stata un'autrice che, questi sono gli ultimi versi dal 38 al 41, perché nel 41 lei si è suicidata. Quindi un po' comunque, la sua vita è sicuramente pesante, piena di malinconia, piena di nostalgia, piena di sentimenti cupi, soprattutto in questi ultimi anni, e questi versi, secondo me, racchiudono esattamente la sua essenza. Quello che poi mi piace tantissimo di questo libro, soprattutto per la sottoscritta, che è una studiosa di russo, è che ha il testo a fronte, quindi avete la poesia originale e poi la traduzione, che ha cura di Pina Napolitano. È una traduzione che io apprezzo molto e è un libro fatto solo di poesie, però poesie veramente di un certo spessore, che quindi io ho dilazionato nel tempo, non è un libro che si può leggere tutto d'un fiato. Piano piano ho letto queste poesie fino alla fine e sono per me stupende. Quindi in questi giorni, magari, un po' più malinconici, dove piove, leggersi una barra due poesie della sfietà, e va per me, è perfetto. Poi, altro libro che appunto ho il dubbio di avervi già consigliato per l'inverno, sono sincera, sapete che io qui con voi sono assolutamente sincera, è Le Sette Morti di Evelyn R. Castle. Allora, non vi spiego questo titolo, perché se vi spiego il titolo, vi svelo il libro, cosa che io ovviamente non voglio fare. Però è un libro che io ho letto ormai un po' di anni fa e che mi aveva lasciato proprio a bocca aperta. Io non avevo capito nulla di questo libro e soprattutto del titolo fino alla fine. Sinceramente, speravo ci fosse un seguito, ma non ho mai capito se c'è un seguito. A dire la verità, non credo. E questo romanzo per me è stato estremamente complesso, perché la nostra protagonista è appunto Evelyn R. Castle e le sue sette morti. Ma sette morti, appunto, non posso spiegarvelo il perché, ma c'è un motivo ed è un motivo che a me ha lasciato assolutamente a bocca aperta. È molto scorrevole sia la scrittura tradotto bene che la storia, quindi sono 500 pagine, ma che secondo me veramente potete leggere nel giro di meno di una settimana, perché ve lo mangiate. E c'è anche questa sorta di suspense, ma anche di angoscia all'interno di questo libro, per un personaggio in particolare, che a me proprio ha portato a leggere sempre più velocemente il libro. Proprio perché questo personaggio mi metteva talmente tanta angoscia, talmente tanta ansia, che io dovevo sapere cosa stava per succedere. Quindi andavo avanti, proprio in continuazione. Libro bellissimo che io vi consiglio per questa stagione. Poi altri due libri, qua ci spostiamo un po' sul classico. Allora, uno è Padri e figli di Turgenev, questa è una mia lettura recente. Abbiamo all'interno di questo romanzo due protagonisti, sostanzialmente, che sono Arkady e Basarov. Sono due giovani, di cui Arkady è un po' il seguace di Basarov. E Basarov è un nichilista convinto. Quindi i nichilisti erano queste persone che negavano, o che comunque mettevano in discussione, l'ordine del mondo. L'ordine del mondo, nel senso i pensieri, soprattutto i pensieri della borghesia, che all'epoca in Russia era abbastanza preponderante, nel senso i pensieri, cioè non si ascoltavano i contadini. E fino a un certo punto, ovvero quando entrambi incontrano l'amore, o comunque l'infatuazione, per due donne diverse, non c'è un lieto fine, non per entrambi i ragazzi, però non vi dico di più, ovviamente, per non fare spoiler, ma è una riflessione sullo scontro generazionale. Basarov si scontra principalmente con i suoi genitori, madre e padre, e con lo zio di Arkady, perché spesso è ospite da loro. Mentre Arkady si vede fin dall'inizio che tenta di essere nichilista, ma non è proprio la sua via. Nel senso che è molto più sensibile, non riesce a rimanere freddo, duro, impassibile davanti a determinati atteggiamenti, e quindi sarà anche il primo che cambierà idea sul nichilismo. E abbiamo appunto poi questa figura dello zio di Arkady, che invece è proprio borghese, però non riesce assolutamente a dialogare con Basarov. Hanno idee fin troppo diverse, tanto che questo porterà ad uno scontro fisico. Quindi, padre e figli è proprio l'emblema dello scontro generazionale, del fatto che comunque, io ho fatto questa riflessione, perché non l'ho mai analizzato come libro, quindi l'ho fatta io, secondo me se Basarov si fosse espresso in modo differente, probabilmente le persone lo avrebbero ascoltato seriamente. Cioè, qui è proprio uno scontro, sempre. non c'è un veniamoci incontro, o comunque dialoghiamo in modo sereno. Non si può, non con una persona che obiettivamente ti nega, o ti dice le cose in modo quasi scortese. È molto piacevole come lettura, non è neanche particolarmente lunga, 230 pagine, quindi per me è perfetta. All'inizio potreste perdervi un pochettino nei discorsi di Basarov, proprio perché, almeno per quanto mi riguarda, è una mentalità molto lontana dalla mia, però poi capirete come ragiona questo personaggio. Ultima lettura, super recente, è una scrittrice molto famosa italiana, che però, di cui io non avevo mai letto nulla, e sono stata molto contenta di partire da questo libro, che è A cabadora, di Michela Murgia. Allora, innanzitutto, adoro il fatto che sia ambientato in Sardegna, negli anni 50 del 900, quindi anche recentemente, nella storia recente dell'Italia, e anche qui non posso spiegarvi il titolo, io non sapevo assolutamente cosa significasse questa parola per la cultura sarda, nello sviluppo del libro lo scoprirete, ma i due temi principali sono appunto A cabadora, che vi dico soltanto che è legato al tema della morte, perché questo libro è molto breve, cioè a 160 pagine, lo leggete in una giornata, veramente molto, molto scorrevole, come scrittura e come storia, però ha appunto il tema della cabadora, che è legato al tema della morte, e poi il tema della fillus de anima, che praticamente era una sorta di adozione, senza passare dalle vie legali, quindi non c'erano carte, non c'era nulla che testimoniasse questa adozione, tantomeno il o i più bambini che venivano dati in adozione, perdevano i contatti con la propria famiglia, cosa significa? Che praticamente c'erano famiglie molto numerose, ma con problemi, che fossero problemi economici o di altra natura, che davano uno o più figli, spesso figlie, a dei parenti, molto spesso, erano magari le zie, che non avevano potuto avere figli, oppure comunque a famiglie della comunità, quindi che si conoscevano molto bene, e questi figli venivano cresciuti da queste altre famiglie, senza però mai scordarsi della propria, perché c'era bisogno di un aiuto, in questo caso, ad esempio, abbiamo l'aiuto per la vendemmia o per il matrimonio di una sorella, della nostra protagonista, Maria, di una delle due protagoniste, e Maria sa benissimo di essere figlia altrui, non perde mai i contatti con la sua famiglia, diciamo, biologica, però viene cresciuta da Bonaria Urrai, che è appunto la cabadora, però Maria non lo sa, e lo scoprirà soltanto durante il romanzo, quindi abbiamo queste due tematiche molto forti, molto sentite all'interno della Sardegna, oltretutto non sappiamo perché anche la pratica della cabadora non è testimoniata, quella del fillus de anima sì, perché ci sono tantissime persone che l'hanno testimoniata questa cosa, ma non sappiamo se la pratica della cabadora fosse una leggenda oppure succedesse veramente, io sono più propensa verso la seconda, ma perché so come funziona la mentalità della comunità più ristretta, non sarda perché io non ho origini sarde, però anche qui al nord nei paesi di montagna, cosa che io conosco bene, la mentalità è di un certo tipo, quindi secondo me era una pratica reale, però appunto ci sono studi e studi su questa pratica, senza arrivare veramente a una, perché anche qui non si passava per vie legali, tutti sapevano, ma proprio perché faceva comodo a tutti, nessuno denuncia questa cosa, che se leggerete il libro capirete, so di essere un po' criptica, ma veramente non voglio dirvi che cos'è, perché perdereste tutta la bellezza del libro, quindi abbiamo queste due pratiche della Sardegna e come vengono descritte, a me è un libro che è piaciuto tantissimo, per me in questa stagione è perfetto, quindi io ve lo super consiglio, datele una possibilità, questa scrittrice per me è bravissima, io non vedo l'ora di leggere altro suo, sono sincera, non ho altro da dire, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere per voi quali sono i libri autunnali per eccellenza, se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi, se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro, come sempre vi lascio i miei profili Instagram e TikTok nell'info box e noi ci vediamo alla prossima, ciao!